Dal 27 giugno al 25 luglio, tutti giovedì, le strade di Poggio a Caiano si animano con musica, spettacoli, eventi speciali ed iniziative per accompagnare lo shopping sotto le stelle. Torna infatti Poggio in vetrina, la rassegna estiva organizzata dalla Proloco, dal Comune, in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale Poggio Nuovo, Confesercenti e Confcommercio. È un evento di qualità, intanto si sviluppiamo su sette sere, avremo la disponibilità di tutto il paese libero dalle auto, almeno per una sera libero dalle auto e fruibile dai nostri concittadini. Questo evento si ripete e mi permetto anche di dire con un punto d'orgoglio che molti anni fa, oltre 15 anni fa, Poggio a Caiano fu uno dei primi, grazie alla Proloco e all'allora amministrazione comunale, a inventare i giovedì del cittadino. Il Poggio in vetrina nacque appunto a Poggio a Caiano e in quei giovedì chiudemmo. Poi abbiamo fatto un po' scuola nei comuni limitrofi. Un'occasione non solo per fare shopping e ritrovarsi, ma anche per visitare la Villa Medicia. Un calendario veramente ricco di proposte per stare insieme al passeggiare, per le vie del paese, magari anche passando dalla Villa Medicia, che sarà aperta per tutti i giovedì di luglio per arricchire appunto questo programma. Primo appuntamento giovedì 27 luglio in via Garibaldi, con lo sbaracco. In programma anche la tredicesima edizione gincana della Cuppa Poggio in vetrina, dedicata ai ciclisti più abili, e la gara di freccette del Torneo dei Rioni. Spazio alle esibizioni di danza, ginnastica e balli latinoamericani.